Se hai un centro estetico questo video potrebbe interessarti. Lo yoga facciale è una ginnastica specifica che serve a tonificare la muscolatura del viso. Praticandola non solo migliora la circolazione sanguigna e migliora il colorito del viso, ma apportiamo più ossigeno alla pelle. Ne consegue che un viso allenato è molto più ricettivo verso i prodotti applicati sulla pelle e anche i trattamenti fatti sono molto più efficaci perché il viso parte da una buona base.